Allora, pronti? Motore? Allora, Dielza, Sergio, non mi piace il braccio lì, braccio no, perché tu sei sfavato, non puoi stare col braccio sotto. Ok, prima. Aspettate il mio tiro, azione. Venezio. Azione. Allora, come? Ma, come mai? Sono preoccupata. Perché? Perché è una amica mia. Qual è la mia? Non la conosco. Dì dove? Sì, era una. Sì, è preoccupata. Beh, non ho capito, ma... Io non posso. Poi, tu hai seguito qui? Sì. Allora, non vogliamo? Sì, io pensavo di condividere ogni accolato, che ce l'abbiamo. Ma non posso dirtelo, lei non vuole. E come ti posso credere se lei è una ragazza o un ragazzo? E forse dopo la conoscerai. E quando? Non lo so, quando verrà. Quando verrà, quando vieni? Non lo so. Per questo lo sono preoccupato. Scusa, tu ti fai solo i fatti tuoi. Non ti... Non pensi ad altri. Penso solo a te. Non è così? No, no, non funziona così. Non lo so, però basta, non posso dirtelo. Non lo so, però basta, non lo so. Non lo so, però basta, non lo so. Non lo so, però basta. Non lo so, ma basta, non lo so. Non lo so, ma non lo so. Non lo so, ma è che ti puoi distrannare? Cioè, non si vuole fare riconoscere. No, perché ha un sacco di fidemmi. Non crederei male. Ogni ragazza si fa riconoscere. Lei no. solo i ragazzi che hanno dei problemi non si fanno riconoscerli pronto? si? perché non puoi? no ma tu devi venire lo sai che è urgente devi venire come no? che cosa succede? come posso aiutarti? chi è? come non puoi? chi è? è un amico mio scusa quindi non puoi venire devi venire urgente dimmi chi è o lo prendo io lo prendo io o me lo dai te? che cosa? chi è? no non ti capisco non ti sento devi venire è urgente ti sto dicendo è urgente non puoi fare questa cosa no no questa ragazzi no come vai no? non so che dirti non so che dire non so che dire no devi venire dammi il telefono dammelo me lo dai sto telefono? pronto? chi è? me lo dai? hai attaccato? dammelo per favore no no aspetta un po che vedo chi è dammelo dammelo lascialo è mio vuoi capire che è mio il telefono è mio avanti cammino chi è? dai avanti è un'amica mia non è niente di che è dammelo dammi il telefono dammi il telefono non mi toccare me lo devi dare è urgente mi devi chiamare mi devi chiamare me lo dai sto telefono faremo i conti a casa lascialo me lo dai? dammelo ti sto pregando dammelo faremo i conti a casa quando arriveremo me lo devi dare no dammelo ma te non capisci un cazzo ma non capisco di cosa cioè non mi vuoi dire chi è? me lo devi dare dammelo? no te lo darò al caso stop